Ospiti nazionali e internazionali per il TEDxBari che torna nel capologo dopo alcuni anni di assenza sold out al teatro Piccini per la conferenza spettacolo dedicata al tema del bestiario per comprendere meglio e intraprendere l'epoca in cui viviamo partendo da un'idea molto ampia di animale inteso come l'altro per eccellenza. Attraverso il talk, dallo stile irriverente non sono mancate le sorprese come il fisico e premio Nobel Giorgio Parisi, ultimi degli ospiti annunciati solo 24 ore prima dello show. Diversissime le sfaccettature da cui il tema portante è stato analizzato dagli speaker coinvolti quest'anno dal direttore artistico Vittorio Parisi e da tutto il team del TEDxBari che da oltre sei mesi ha lavoro per il ritorno nel capoluogo della conferenza più famosa del mondo. Quest'anno abbiamo scelto come tema bestiario. Cosa significa? Il bestiario è un testo medievale che descrive animali e appunto bestie reali o immaginarie ma per noi è piuttosto un pretesto per parlare dell'altro. E l'altro che cos'è? L'altro può essere oggi un robot, un'intelligenza artificiale ma ci interessa anche parlare di guerre, ci interessa parlare di nuovi cibi. Io spero che il futuro sia un futuro in cui possiamo mettere in atto tutte le soluzioni per ridurre l'impatto degli allevamenti tradizionali sull'ambiente. Per me è un futuro nello specifico nel quale vado al supermercato e trovo prodotti a base di agricoltura cellulare, quindi carne coltivata, pesce coltivato sugli scaffali.